In occasione degli incontri capitali di Pesaro 2024, capitale italiana della cultura, si è tenuto presso Palazzo Gradari l'Alexio Magistralis del sociologo Fabrizio Battistelli, che ha rivolto uno sguardo approfondito alla guerra tra Ucraina e Russia e a quella tra Palestina e Israele, cercando, come da titolo, di porre l'attenzione e la riflessione sul quesito pace o scontro di civiltà. Stiamo facendo di tutto per evitare lo scontro di civiltà, perché non porta ad altro che all'autodistruzione del genere umano. Dobbiamo trovare le modalità per un dialogo, mantenendo ciascuno se stesso, rispettando l'altro, e nella misura del possibile ricomporre i conflitti in qualche modo che sia politico. Nel caso dell'Ucraina sono due stati in azione che si fronteggiano e che hanno poi una serie di alleanze. La Russia ha alle spalle la Cina, mentre ovviamente l'Ucraina ha il mondo occidentale. Questo rende la cosa ancora più complicata. È essenziale che venga trovata una mediazione, una soluzione, a meno di pensare che questo conflitto debba essere eterno. Nessun conflitto è eterno. Prima o poi è necessaria una soluzione diplomatica, una soluzione politica, e su questo l'Europa può fare molto, anche l'Italia può fare molto. Per quello che riguarda il Medio Oriente la situazione è ancora più complicata, perché abbiamo di fronte uno Stato che in questo momento ha un governo che politicamente è estremamente radicale, estremamente drastico, e quindi è difficile immaginare una soluzione politica a breve termine. Due popoli, due stati, come lo sono l'Ucraina e la Russia, come il mantra che ritorna per Palestina e Israele. Dunque, in questa visione deve esserci qualcosa che manca, forse un'assenza della cultura della pace o forse una troppo consolidata cultura della guerra. Nell'essere umano ci sono entrambe le spinte, le motivazioni, quella al conflitto e quella alla soluzione del conflitto. Bisogna fare di tutto, per esempio noi europei su questo abbiamo una possibilità, è anche un dovere per porci come una forza che interpreti i bisogni quando sono legittimi dell'una e dell'altra parte e trovi una soluzione politica, solo una soluzione politica. È possibile per interrompere la violenza delle armi, è indispensabile una tregua e poi una situazione nella quale tutti i paesi, a cominciare a quelli occidentali, negli Stati Uniti e i paesi europei, si facciano garanti della possibilità di una soluzione che di due stati in questo momento è così deteriorata la situazione, non sarà facile, ma perlomeno di tutela delle popolazioni civili. Quando abbiamo 36.000 morti nella popolazione palestinese, di cui la grande maggioranza sono bambini e donne, noi abbiamo un problema umanitario che deve essere affrontato.